cari carissimi fratelli e sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo il vangelo di matteo capitolo 9 versetti 32 a 38 il nostro brano può essere diviso in due sezioni la prima sezione parla della guarigione di un muto indemoniato e la seconda sezione di esso che ha avuto compassione della della folla perché era come le pecore senza pastori e poi il brano si conclude con una nota all'invito di mandare gli operai della mese la mese essendo abbondante però mancano gli operai questo è il nostro brano riguardo dunque la prima sezione gesù guarisce un molto indemoniato mentre la folla era stupita di questa meraviglia i farisei da parte loro mormorano nel senso ma lui sta facendo questi miracoli nel nome del principe del demonio dunque gesù è nessuno secondo i farisei allora per un po diciamo fare tacere questi farisei Gesù vede la folla dunque siamo nella seconda sezione vede la folla come le pecore senza il pastore già Gesù compiendo o i miracoli compiuti da Gesù non vengono come per dimostrare la sua potenza nel senso dell'orgoglio ma Gesù compie i miracoli nella continuità della presenza della continuità della sua predica e la predica che date simonianza della presenza del regno di Dio dunque già Dio comincia a prendere possesso del suo popolo lui viene a realizzare a prendere cura diciamo del suo popolo dunque ogni ogni prodigio ogni ogni miracolo realizzato da Gesù è un segno della presenza del regno di Dio per i farisei non è così dunque Gesù è indemoniato anche lui perché fa ogni cosa nel nome del principe del demonio allora Matteo per collegare un po tutto quanto presenta Gesù come 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 Dio come Messia perché ha avuto compassione secondo il profeta Osea solo Dio è compassionevole e Gesù ha avuto questo sentimento la logica sarebbe di dire lui è figlio di Dio lui è Dio dunque prende cura del suo popolo come si leggerà nel profeta Ezechiele perché i pastori c'erano però erano cattivi pensavano solo a loro stessi non alla folla non prendevano cura della folla e Dio aveva deciso di scendere prendere cura del suo popolo lui stesso allora Matteo mettendo questo questa compassione nella vita di Gesù è per dimostrare che lui viene come uno dei pastori anzi diciamo come il vero pastore e San Giovanni dirà il buon pastore lui è il buon pastore dunque tramite lui Dio stesso prende cura del suo popolo ecco perché alla fine si manda si chiede di dire al capo della messa di mandare gli operai perché il campo è tanto la messa è abbondante c'è da fare però mancano gli operai quelli che erano lì non prendevano cura del popolo ci vogliono ci vogliono altri 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 pastori per prendere cura del popolo allora Matteo dunque concluderà questo capitolo 9 per con con questa nota e entreremo nel capitolo 10 di cui Gesù manderà i suoi discepoli dunque già la selezione è fatta allora questi discepoli andranno nella messa del Signore ecco allora per dirci carissimi è vero ciascuno di noi potrebbe essere un pastore prendere cura dei suoi delle sue pecore queste pecore che sono già a casa interroghiamoci come responsabili come papà come mamma come genitore come noni nonne ma prendiamo cura di chi sta intorno a noi oppure li giudichiamo li condanniamo solo noi che abbiamo ragione solo noi che abbiamo tutto gli altri no la nostra la nostra responsabilità l'assumiamo non dimentichiamo che noi siamo gli strumenti del Signore non potremmo agire per conto nostro non potremmo essere responsabili e pensare non potremmo essere responsabili e pensare a noi stessi non possiamo essere genitori e pensare solo a noi stessi oppure solo anche a un nucleo strettissimo ma qui siamo invitati ad avere un cuore compassionevole la nostra missione comincia a casa nostra ma non finisce lì va oltre la casa nostra oltre la famiglia oltre le mura siamo invitati a essere come Gesù siamo tutti chiamati a lavorare nella messa del Signore dovunque ci troviamo sentiamoci in missione dunque ogni nostra parola ogni nostro suguardo ogni nostro gesto dovrebbe contribuire a dare vita a chi sta accanto a noi e così che noi potremmo veramente continuare l'opera salvifica di Dio realizzata nel Cristo Gesù il nostro Signore e Salvatore vi auguro una buona e santa giornata che Dio vi benedica sempre vi auguro una buona e santa giornata che Dio vi benedica sempre vi auguro una buona e santa giornata che vi benedica sempre vi auguro una buona e santa giornata che si è piaciuto Grazie a tutti.